Siamo rimasti incantati, è un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Quando cammino e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Siamo rimasti un'ora e mezza, stavamo tre ore ad ascoltarlo. Grazie per la visione!